Un vecchio proverbio enuncia, non è oro tutto quello che luccica. Beh, non fu quello il caso. In questa chiesa la maggior parte delle superfici è ricoperta da uno spesso strato di metallo prezioso. Nel dicembre del 2011 mi trovai a ristorare l'arco trionfale e a ridare vivacità ai suoi angeli, puttini delicati dalle dorate ali che il segno del tempo aveva ingrigito e logorato. Ricordo le gambe tremanti nel salire ogni giorno su quell'imbalcatura e allo stesso modo non dimenticherò l'odore acre del solvente usato in quei giorni. Sentivo il bruciore dell'ammoniaca sin dentro le narici. Lì, nel silenzio, ogni cosa riprendeva forma proprio davanti a me. Continuava ad interrogarmi sulla motivazione di tanto sfarzo e così tanto oro per poter suscitare un'emozione a chi dal basso osserva l'opera. Per me sarebbe bastato modellare del marmo bianco e farlo colpire da un singolo raggio di sole. Oro, oro e ancora oro, per giorni, giorni e giorni. Ma fu proprio al lavoro finito, quando scesi a terra, che tutto fu più chiaro. Quella visione scatorì in me un'emozione così forte da farmi commuovere. Allora capì. Un orologio serve per misurare il tempo, che sia ricoperto di diamanti o che sia una meridiana. Questo non influirà sul trascorrere dei secondi. Non è quindi la forma che diamo alle cose ad essere importante, bensì il messaggio che vogliamo trasmettere.